Sì, è il sagona d'oro, non te faccio tu, sei facciato solo. Sì, è il sagona d'oro. 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 Quando mio marido mi ha parlato, quando mi ha parlato, non c'è una cosa senza alcuni. Non c'è una cosa senza alcuni. A di tempi, a di tempi, c'erano gli antichi, quando non potevano marudare, una piccola, con un po' di ieri, un po' di ieri, e quando vieni a fare ieri di paese in paese, e con la figlia, la ricca, ma Sara, diceva, che parla. E con la figlia, non la sgarra, so' di te, e ci diceva, davvero, davvero. Gli amorentiti quando usavamo presentare una pasta che ci mandano la piccola usavamo perché avevamo un cipo uscito e usavamo ci paravamo ci mettiamo a metà volta. Quando gli apriva la sua aula di un bello cipo e allora se l'avamo appicchiato un vaso che usava un'altra maniera non si buttava a chiesa, a domenica, quando diceva nusca e allora ci faccia con l'arri cipato la figliola mia un cipo che sapia che l'havia usato già, picchiava e si avvicinava, ci diceva io e allora se ci piace io quasi l'un cipo si buttava attorno a casa. Se non ci piace io, cipo, se l'avevi appicchiato il corpo non ci può tagliare una cipa su lì. Sì. 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 Grazie. Queste belle cabina pulita, ma vi sospetto di tutta la gente, la gente sono tutta giardini, che te lo benedevo con tutto male, che te lo benedevo con tutto male. Grazie. 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 Grazie.